Nella donna l'età gioca un ruolo fondamentale nella capacità riproduttiva, infatti essa riceve in dote alla nascita un numero di ovociti che consumerà durante la vita fertile. Questi ovociti oltre a essere consumati invecchieranno, quindi la capacità di riprodurre e la qualità ovocitaria peggiorerà di anno in anno. L'acme della fertilità in una donna è tra i 20 e i 30 anni, già a 32 il tasso di fertilità comincia a scendere e diventa particolarmente grave dopo i 37 anni di età, avvicinandosi quasi allo zero, intorno ai 40 anni. Oltretutto in quest'età ci saranno maggiori, ci sarà un maggior numero di aborti, di alterazioni cromosomiche, di gravidanza extrauterina e così via. Bisogna aggiungere che la fecondazione assistita, quindi tutte le tecniche di fecondazione assistita, possono risolvere problemi meccanici e non per la ricerca di una gravidanza, ma certamente non possono aumentare il numero degli ovociti e né migliorarne la qualità. Purtroppo la donna è soggetta a un cosiddetto orologio biologico al quale non è possibile portare indietro le lancette.